La salpa è un pesce molto comune nei nostri mari. Si muove in banchi numerosi e si nutre principalmente delle alghe che crescono sulle rocce e di piante marine come la posidonia. Spesso il segno dei loro morsi è visibile sulle praterie di posidonia frequentate da questi pesci. Questa salpa appena pescata aveva nello stomaco una quantità enorme di pezzi di questa pianta. Questi sono pesci ottimi da mangiare a patto che vengono puliti subito per evitare che le alghe contenute nello stomaco possano dare un cattivo sapore alle carni.